E' stato prorogato al 31 marzo il bando per un valore complessivo di 370.000 euro per ottenere risarcimento per chi ha avuto l'auto o la moto danneggiata dalle alluvioni di ottobre e novembre dello scorso anno. Il bando era scaduto il 16 febbraio ma è stato prorogato per agevolare chi ha avuto difficoltà a presentare la documentazione. Ad oggi sono state 733 le domande presentate e i 220 quelle già liquidate dalla Filse per un totale di oltre 80.000 euro. Intanto dal prossimo autunno sarà revisionato il sistema di allerta della protezione civile passando dai numeri ai colori. Questo nuovo sistema di allertamento prevede una specifica allerta per i temporali ed anche una per le frane. L'obiettivo per la Liguria è così quello di arrivare tra le primissime regioni in Italia a realizzare una revisione generale per rafforzare tutto il sistema operativo.